E' una candidatura che punta a far rinascere il Partito Democratico, a riprendere lo scettro dell'opposizione e a costruire l'alternativa a questa destra, che è la destra peggiore della storia della Repubblica e che contro la quale c'è bisogno di un Partito Democratico che riscopra l'orgoglio dei suoi valori e della sua identità. Ieri con Elie Schlein abbiamo attraversato mezza Sicilia, abbiamo fatto diverse tappe, purtroppo non è riuscita ad essere a Messina questa mattina per altri impegni e anche qui abbiamo visto quello che sta emergendo in tutto il paese, uno straordinario entusiasmo di persone che avevano perso la fiducia, che erano un po' rassegnate e che non guardavano più al Partito Democratico come lo strumento per affermare i propri ideali. E' questa la ragione per la quale io sostengo Elie Schlein, che ha il compito di sanare questa frattura tra la sinistra dentro il Partito Democratico e il tanto invece che è rimasto in questi anni fuori, talvolta alla finestra a guardare, altre volte invece disilluso anche da errori che sono stati compiuti in passato. Sanare una frattura non tra gruppi dirigenti ma in una comunità democratica e progressista di cui oggi, mai come oggi, abbiamo bisogno per combattere in questa destra il governo contro tutte le disuguaglianze che sono sociali ma anche territoriali. Oggi noi siamo quelli che credibilmente e con forza possiamo opporci senza sé e senza ma al progetto di autonomia differenziata che vuole spaccare l'Italia, affossare il Sud e frantumare l'interesse nazionale. Che spazio c'è per la sinistra liberale nel nuovo PD? Ma, diciamo, la sinistra liberale ha uno spazio naturale nel nuovo Partito Democratico perché quando vengono messi in discussione i principi anche di libertà come abbiamo visto nei primi atti del governo, penso al decreto RAVE, al decreto NG in cui si sceglie l'arbitrio più che la legge e lo Stato di diritto, io credo che la sinistra liberale debba tornare a guardare al Partito Democratico come luogo naturale in cui fare queste battaglie e così dappertutto in Europa nel Partito del Socialismo Europeo si riconosce una pluralità di forze e componenti della sinistra e questa pluralità va preservata non a scapito però della chiarezza del messaggio politico perché quello che è mancato in questi anni è un profilo netto e riconoscibile del Partito Democratico ed è quello che vogliamo fare con Elie Schlein, cioè un partito che sia immediatamente riconosciuto per le battaglie che fa e oggi le battaglie sono quelle per il lavoro buono, per un salario minimo e per la cura del nostro territorio e dell'ambiente. Di fronte a una destra che porta avanti i suoi valori regressivi e che oggi dopo quello che sta avvenendo con Donzelli e Del Mastro manifesta tutta la sua pericolosità anche per la tenuta delle nostre istituzioni vista la totale mancanza di senso dello Stato che hanno manifestato in questi giorni abbiamo bisogno di una sinistra che non si nasconda, che faccia una battaglie coraggiose per quegli ideali di libertà e di uguaglianza che sono ancora attuali e che lo sono sempre di più.